Con il primo fine settimana di giugno la Fiera Antiquaria torna ad animare le strade del centro storico aretino. Con i banchi allestiti all'aperto torna anche il grande antiquariato in vendita a Casa Bruschi con Antiquaria Palazzo. Tra le chicche presenti per gli amanti della pittura del Novecento si segnala uno splendido De Chirico, paese del 1957, e il dipinto televisore ponte di Mario Schifano del 1974. Pronta anche la terza collaterale della rassegna sul cinema da Cinecittà d'Hollywood, organizzata in occasione della Fiera Antiquaria dal Museo dei Mezzi di Comunicazione. Questa volta lo sguardo è puntato sugli ultimi anni Ottanta e fino al 2000 circa, attraverso immagini, pellicole, macchine da ripresa originali utilizzate dai grandi registi di tutto il mondo e proiezioni. Accanto alla Fiera arriva anche lo Sport Vintage con l'ardita, la gara per bici d'epoca e la mostra sul ciclismo. Si inizia appunto con una mostra a scambio di ciclismo vintage al Prato, lo sapete tutti, è un posto bellissimo e negli stessi giorni della Fiera Antiquaria potremo vedere biciclette, ma anche cose diverse, perché avremo anche una gingana per i bambini, avremo la prova delle biciclette elettriche, cioè vogliamo che la città si avvicini al ciclismo. E poi la domenica abbiamo l'ardita, vedete qui dietro la maglia, c'è la cronoscalata dell'Alpe di Poti, questa salita che sempre più sta piacendo, ci è passato il Giro d'Italia, è piaciuta a tutti, ci sono sempre più persone che ci passano, ho incontrato nel Giro di Cognizione persone che venivano a piedi, quindi ormai un utilizzo sempre più esteso. In questo posto, l'altro d'onore della provincia, abbiamo la segreteria organizzativa, abbiamo anche una mostra interessante sul ciclismo, interessante perché abbiamo il ciclismo, diciamo che ci interessa, cioè ricordiamo del Tongo, con la bicicletta di Saronni e la sponsorizzazione che per vent'anni ha avuto, ha portato il ciclismo importante ad Arezzo, abbiamo Lucia Retina che è una delle più vecchie società sportive di Arezzo, ancora in attività adesso con le giovanili, abbiamo poi il concorso fotografico che è qui in mostra con le 30 migliori foto e abbiamo delle nostre biciclette che raccontano un po' di storia, la bicicletta dei mestieri, quella del lattaio, quella del fornaio, quindi un po' di ricordi che mettiamo in mostra. A proposito della bicicletta del fornaio, è stata anche protagonista in uno spot? Sì, era Ninetto Davola che faceva il militare qui ad Arezzo, quindi faceva una pubblicità di un noto marchio che per tanti anni abbiamo visto in televisione e poi quella bicicletta è stata acquisita da un collezionista e ce l'ha data per poter utilizzarla.